Giuseppe Garibaldi, il giovane e affascinante ex concorrente del Grande Fratello, continua a far parlare di sé nell'ambito dello spettacolo televisivo italiano. Benvenuti in un nuovo video della Gazzetta del Gossip. Se ancora non lo avete fatto, vi invitiamo ad iscrivervi al canale e mettere un bel like al video. Questo piccolo gesto è per noi di fondamentale importanza e ci consentirà di offrire contenuti sempre nuovi e aggiornati. Grazie! Dopo aver barcato la famosa Porta Rossa del reality show lo scorso settembre, il suo percorso è stato seguito con grande interesse da parte del pubblico, che ha dimostrato di apprezzarne le qualità umane e il carisma innegabile. Tuttavia, il sogno di arrivare alla finale e conquistare la tanto ambita vittoria si è infranto durante la semifinale, quando è stato eliminato con grande delusione da parte sua e di molti fan che lo sostenevano. Le lacrime versate al momento dell'annuncio dell'esito del televoto hanno rivelato quanto fosse profondo il suo desiderio di portare a casa il trofeo del grande fratello. Nonostante la delusione, Giuseppe ha dimostrato grande maturità e dignità, ringraziando pubblicamente sui social media tutti coloro che lo hanno sostenuto durante il suo percorso nel reality. Il sostegno ricevuto ha contribuito a mitigare il dolore della sconfitta e a incoraggiarlo verso nuove sfide e opportunità nel mondo dello spettacolo. E infatti, sembra che Giuseppe non abbia alcuna intenzione di abbandonare il mondo della televisione. Ulteriori voci di corridoio suggeriscono che potrebbe essere in trattative per partecipare a un nuovo programma televisivo che promette di catturare l'attenzione del pubblico italiano. Too Hot to Handle Un reality inglese che si appresta ad arrivare nel nostro paese per la prima volta. La possibilità di vedere Giuseppe tra i protagonisti di questo intrigante reality non fa che alimentare l'entusiasmo dei fan che già immaginano quale potrebbe essere il suo ruolo all'interno del programma e quali sorprese potrebbe riservare il suo carattere vivace e avventuroso. E tu cosa ne pensi di questo ragazzo dalle mille risorse? Faccelo sapere nei commenti! Se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime novità e pettegolezzi dal mondo dello spettacolo non puoi perdere l'occasione di iscriverti al nostro canale La Gazzetta del Gossip